Cari amici, benvenuti. In questa puntata di Babele parleremo del numero 19. Ne sono certo, per molti di voi questo argomento di oggi sembrerà strano e curioso, ma vi confesso che per noi di Teleradio Sciacca, proprio in questi ultimi giorni, il numero 19 è diventato un numero importantissimo e al contempo simpatico. Questo numero ci piace perché nell'arte il 19 assume il significato simbolico dell'uomo estroverso, che ha la forza di uscire dal proprio io per entrare in un universo più grande ed assoluto. Il numero 19 ci piace perché nella simbologia dei tarocchi indica la felicità, un grande sentimento, ma anche il sole, quel sole che splende alto e fiero nel cielo. Il sole, quale simbolo profondo di vittoria e di successo. Ma cari amici, al di là di ogni scherzo, a noi di Teleradio Sciacca il 19 piace tantissimo perché sarà il nuovo canale del digitale terrestre sul quale ci potete continuare a seguire anche dopo il 21 di giugno. Il canale 19 sarà un nuovo percorso, sarà una nuova strada digitale che ci porterà a viaggiare e a sostare nelle vostre case, nei vostri cuori per suscitare pensieri e riflessioni. Su questo nuovo canale digitale noi continueremo a raccontare perché crediamo fortemente in una bella idea, in un grandissimo assunto, ovvero informare significa formare. E noi di Babele continueremo ad informare perché vogliamo un pubblico di telespettatori consapevoli, responsabili e soprattutto liberi. Alla prossima puntata.